Grazie a tutti. Il fiume Sarno e dei suoi affluenti presenti gli amministratori dei comuni di Angri, Scafati e Striano, i tecnici di SMA Campania, la Gori, il consorzio di Bonifica, Comprensorio Sarno e il presidente dell'ente idrico campano. In audizione anche il vicepresidente della regione Campania, l'onorevole Fulvio Bonavitacola. Al centro della discussione in particolare la questione legata ai lavori per il depuratore di Angri e più nel dettaglio all'intervento di realizzazione del settore collettore. Al centro della discussione in particolare la questione legata ai lavori per il depuratore di Angri e più nel dettaglio all'intervento di realizzazione del secondo collettore. Lavori sui quali nelle scorse settimane, anche su sollecitazione dei cittadini, Carpentieri aveva sollevato forti preoccupazioni relativamente all'urgenza di procedere all'adragaggio di tutto il corso del rio sguazzatorio prima di avviare qualsiasi altro intervento. In caso contrario sarebbe paradossalmente aumentato il rischio dei lagamenti e dei sondazioni secondo il consigliere regionale. L'assessore Bonavitacola, dopo essersi confrontato con i tecnici della Gori, ha assunto l'impegno di programmare tempestivamente i lavori di dragaggio di tutto il rio per poi procedere con gli altri interventi già previsti. Naturalmente si continuerà a monitorare la situazione.